È stata la prima giornata di lavoro per la squadra in vista di quella che sarà la sfida di Parma, prima di due sfide che caratterizzano una settimana ovviamente molto importante per ciò che rimane di questa stagione, da una parte il Parma e poi domenica almeazza nel posticipo la gara con il Milan, il secondo derby della stagione, il primo l'abbiamo vinto con il gol di Diego Alberto Milito. Si è lavorato quest'oggi come un po' da prassi in questo periodo su due gruppi, da una parte coloro che hanno giocato nella gara con il Cesena, che hanno svolto solo attività di natura rigenerativa, dall'altra parte invece un gruppo con i nerazzurri disponibili, tra i quali Giulio Cesar, c'era Walter Samuel, il capitano Caverzanetti e alcuni giovani aggregati, ovvero il portiere di Gennaro, Ibriman Baie che abbiamo imparato a conoscere questa settimana, terzino classe 94, convocato contro il Cesena, il centrocampista Alfred Duncan, Joseph Alfred Duncan e l'attaccante Marco Livaia. Infine programmi individuali di recupero agonistico per Castagnos e per Christian Chivu, Castagnos ha svolto una parte del lavoro anche sul campo, quindi prosegue il recupero di questo sfortunato attaccante che ha avuto un problema grave dal punto di vista muscolare. Domani nel pomeriggio, ultimo allenamento al centro sportivo Angelo Moratti, poi la partenza per Parma, ricordiamo per chi segue la nostra programmazione che domani sarà la volta per Andrea Stramaccioni della presentazione alla stampa della partita appunto con i Ducali, conferenza stampa che inizierà alle ore 13, sarà trasmessa come sempre da Inter Channel in esclusiva. Questo per quello che riguarda gli allenamenti, per ciò che concerne invece il mondo Inter, l'appuntamento è come sempre alle ore 19.30 sul canale 232 della piattaforma di Sky Inter Channel.